Ci troviamo sul famoso ponte di Contrada Misteci, o meglio dire del tristemente famoso ponte di Contrada Misteci. Perché famoso? Perché per tanti anni ci siamo occupati di questo ponte. Questo ponte era impraticabile perché era crollato e per tanto tempo la ex provincia regionale di Caltanissetta non è intervenuta. Finalmente il ponte, dopo anni e dopo proteste dei vari residenti o di chi deve passare necessariamente da questa zona, è stato sistemato. Ora però cosa possiamo notare? Il ponte forse stava crollando di nuovo perché, come possiamo notare, è stata scaricata tantissima terra e sassi. Ora vorremmo capire per quanto tempo resterà adesso così, anche perché questi sassi belli grossi non sono sicuramente un aiuto per la circolazione stradale, anzi possono essere un pericolo, soprattutto nel periodo invernale con le piogge. E poi vorremmo capire che tipo di intervento è questo, perché non riasfaltare il ponte e buttare i sassi. Quindi aspettiamo risposta.